Per colui che non mi conosce, dispo colui che ha inventato questo forum che si chiama Serata di Sicuritura, esattamente 15 anni e 10 giorni fa, 12, 13, era il 17 giugno del 2000. Allora, cosa faremo noi di bello stasera? Allora, noi siamo qua per mangiare e inserremo tra poco, la cucina è già sentito i giorni, tra poco gli seremo, ma il motivo principale per cui siamo qua è quello di risvegliare emozioni, quella cosa che qualche volta nella vita un po' si perde, perché sai, intanto da fare vai di qua, vai di là, ecco, purtroppo si addormentano le farfalle, bene, noi stasera sveglieremo le farfalle nello stomaco, qualcuno dice che sono morte, se il cuoco mi sente porti un piatto di farfalle al salone, le hanno inchiodato il cuoco, vabbè, vediamo, allora, come faremo a risvegliare le emozioni? Voi non dovete necessariamente affrontare con la persona che avete nelle vicinanze, se volete o vedete, potete anche far piedino, perché non è vietato, però vi dovete guardare attorno quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna che trovate in tavola e scrivete un messaggino con quello che vi esce dal cuore, vi firmate con il vostro cuore, fuori scrivete grazie